POTENTE APARA RAGAZZI Qua Wax, lo giungo in grado Oggi sono Nassolo e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi è il nuovo Pink Pal Infatti era da un po' di tempo che non ve ne portavo uno E ho detto eh no, eh no, eh no Io devo fare un nuovo Pink Pal è magicissimo E quindi ho detto ma facciamolo di un giocatore in Man of the Match Anzi abbiamo deciso così insieme Perché infatti nel video di ieri O meglio per voi, per quando vi riterò questo video Sarà il video dell'altro ieri Che avevo chiesto che giocatore avreste preferito Tra Vampirsi e Figo E voi tutti, tranne uno mi sembra Mi avrete detto Vampirsi E quindi eccoci qua a presentare il Pink Pal Di Vampirsi Man of the Match pagato la bellezza di 1.149.000 crediti Prima di iniziare ragazzi vi volevo ricordare Di passare da FIFA con il test Se siete interessati a comprare crediti di FIFA E seconda cosa ragazzi Io adesso sono riuscito a riscaricare il programma Perché per quelli che voi che mi seguono sulla pagina Facebook Sanno che ho avuto problemi con il programma E avevo detto appunto a causa di questi problemi Che il Pink Pal non si sarebbe fatto in questo momento E ragazzi è arrivata da gente addirittura che mi ha iniziato a insultare Cioè veramente questa qua è proprio la feccia del tubo Dei social di Youtube e cose varie Comunque questi dettagli Comunque come potete vedere ho appena tweetato su Facebook Pink Pal Vampirsi Man of the Match Xbox One Per partecipare dovete fare sempre le solite cose Invitarmi ad un gruppo Poi io ci trovo l'invito a caso Diventare miei followers e bla 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 Ragazzi speriamo di vincere Sto utilizzando questa squadra nel caso in cui servisse E ho qua pronto i barbo Perché sapete che lui è il banco per eccellenza Secondo me Comunque io accetterai il prossimo invito Che è questo qui Non guardiamo di proprio il nome Così voi vi fidate Però io ho schiacciato Ma non so se è andato con qualcuno Abbiamo schiacciato Ma che palle quando si rimbecillisce Vediamo un po' con chi mi manda Vediamo A caso Ha scelto la mia Xbox ragazzi Si chiama Majin Il mio sfidante Adesso dovrò chiudere anche il Kinect Perché mi starà sentendo Bella Majin Sei capitato a fare un bel pink pal Di Vampirsi Meno off da match Chiudiamo anche il Kinect Ma chi è quel bel sex Ah sono io Chiudiamo il Kinect È arrivato qualcuno Pensavo Mi sa che ci sono i ladri in casa mia Mi deruberanno Vedete una rapina in diretta Comunque Mamma mia Madonna 3-5-2 Che bella squadra Perché È sia un'ibrida Cioè è un'ibrida Perché alla fine Vabbè ci sono due lighe Sia un'ibrida quindi che non un'ibrida Però se devo essere sincero È una bellissima ibrida Speriamo ragazzi Di andare a vincere E speriamoci proprio Sto facendo un video Sto facendo un video Mi chiudi la porta qua Per favore Sì 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 Dai dai Al quarto punto Mamma puoi scendere Per favore No è Buono Mamma puoi scendere Per favore Ti prego Sto facendo un video Sì mamma E non andava finora Al programma No Se perdo Sopriando che ha la polpa Se perdo Mi prende l'Evan Percy Mannaggia 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 Mamma mia David No ma perché David Oddio Va bene sì No Mannaggia Non ha tirato No 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 Puzza No Sì 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 No No Che due palle Una a zero No Sì Fuori gioco Fuori gioco E andiamo Come vedete Mia mamma e mia sorella Portano molta fortuna Sono arrivato Ho già preso un gol Buono Fuori gioco E no Sì ma vantaggio Non può durare due anni Boia 1 a 0 1 a 0 al 24esimo Gol Su punizione Ma io non le so tirare Quindi Porca vacca Che gol E ora è dura Questa è forte Gesù Pissimo ragazzi Ci possiamo credere Anche se è dura Se è dura Ma forza Ma che dovevo passarla Perché Perché non l'ho passata Dai 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 Vai No Ma sei Tino Dio santo Andavo a segnare 1 a 0 Suo Mi sta arando Completamente No Lo ammetto Veramente forte questo è una donna che parla che non è possibile dai non ti prego madonna 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 al sessantesimo samuel ito samuel eto daje e tunzu tunzu daje daje mamma mia eto ancora eto ma non ci posso credere mamma mia tebruin oddio tebruin tebruin fammelo nasri non me lo fa fammelo fer cipollo eto samuel eto al 2 al 87 2 a 1 dai e andiamo e andiamo 2 a 1 al 87 finita ragazzi 2 a 1 al 90 mamma mia questa era sicuro di perderla questo e questa partita ero veramente sicuro di perderla madonna che tensione e tu la bestia al sessantesimo e all'ottantasettesimo sempre lui samuel eto ragazzi e questa veramente pensavo di non poterla vincere se devo essere sincero questo era uno degli avversari più forti no con quello di robben questo era uno degli avversari più forti per me non me la meritavo nemmeno cioè infatti abbiamo fatto quali tiri ma lui il doppio dei miei tiri importa quindi è una cosa abbastanza poco tattica per me comunque se l'abbiamo fatta daje quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi esorto a lasciare un bel mi piace e un bel commento ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e detto questo ragazzi io non so più cosa dirvi ma ovviamente vi voglio sempre ringraziare ah no ecco per favore commentate scrivendo qua una cosa fate così credetemi solo se a voi va bene come video per i 40.000 le fuck you time questo perché perché ragazzi allora il video dove gioco io a calci in real life lo farò credo per i 50.000 sempre ci arriveremo e speriamo di arrivarci e invece video su chat roulette magari lo faccio magari faccio anche quello scrivetemi ecco cosa preferite se video su omegol scusate oppure se le fuck you time e appunto poi andrò a decidere perché non volevo farlo perché ormai lo fanno quasi tutti come anche le fuck you time però le fuck you time hanno qualcosa di più interessante comunque questo è tutto da vedere e ragazzi detto questo magari iscrivetemi anche che giocatore vorreste che ho pink palazzi nel prossimo pink palazzi magari vi porto un altro wager match che sto per trovare un altro sfidante abbastanza ambigua e detto questo ragazzi vi saluto e vi dico potente da palazzi nel prossimo video bolla